Un anno di scuola internazionale per crescere nella relazione, imparare a trasformare i conflitti e progettare il proprio futuro a servizio del bene comune. È il quarto anno Rondine, un'opportunità educativa e formativa riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito come percorso di sperimentazione per l'innovazione didattica. Le richieste nelle ultime settimane sono arrivate da ogni parte d'Italia per conoscere meglio il quarto anno e partecipare all'ottava edizione ed è stata così prorogata la scadenza del bando al 15 aprile 2024. Io penso che un mio coetaneo e una mia coetanea dovrebbe valutare e poi scegliere l'opportunità del quarto anno a Rondine perché credo sia effettivamente l'esperienza giusta che ti permette di vedere il mondo da un'altra prospettiva, anzi da altre prospettive, non solo una ma diverse. Il progetto si rivolge a studenti e studentesse dei licei, classico, scientifico e scianzumane di tutta Italia, una proposta formativa internazionale ed interculturale unica che combina l'esperienza consolidata in oltre 25 anni di formazione di Rondine con il mondo della scuola italiana attraverso il metodo Rondine. Partendo dal punto di vista della scuola è stata un'apertura totale verso una nuova visione di scuola molto più aperta che mi coinvolgeva anche di più e che rientrava molto più anche in quelli che erano i miei personali parametri e dal punto di vista relazionale invece mi ha aperto un mondo su come ci si può relazionare con persone più grandi, persone più piccole e anche un sacco di realtà che ci stanno intorno con la mia realtà, con il mondo circostante ma soprattutto anche con le persone che mi stanno di fianco.